All right, I just want to wipe out the language. Doesn't matter, I'm not a little bit. Roberto, come stai oggi? Oggi stanno molto bene. Sì, io ho fatto la camera qui. Si fa questo episodio numero tre per il dottor Antonio Lombardi. Questo canale che ho fatto su YouTube per educare la gente che parla italiano di tutto che faccio io. Chino pratico, acupuncture. E oggi tu sei un ospite di mio oggi qui. Sì, oggi sono un cliente tuo. Sì, come stai super giù? Oggi mi sento molto più bene perché tu mi hai aggiustato il collo mio, stavo troppo duro. Tu mi hai allontanato il collo, i muscoli. Un po' di acupuncture, rilasciato, così. Massaggi, con le mani. È molto importante. Una domanda, questa fotografia mia moglie ha comprato a un negozio. E questo è Venezia, tu mai stato a Venezia? No, io mai sono stato in Venezia. Anch'io. Ci voglio andare. Anch'io, ma... C'ho la voglia di andare là a Venezia, vedi? Sì. Facciamo a stare con questo qua. Questa gondola? Sì, è una gondola, sì. Sì. Mi piace il mangiare, il mangiare la pasta. La pasta, sì, la pasta è sagra. E che qualità di pasta ti piace di più di tutti? Sempre lunghi. Quelli lunghi. Sì. Linguini. Mi piace, io o mi piacciono le penne? Le penne, sì. Le penne, sì. Le penne sono buone pure, piccole, grossi, buone. Un po' di sugo di pomodoro, basilico, così. Però mai con carne o con carne? Tutti e due. Mi piace insieme, carne, senza carne, pasta in bianco. Pasta in bianco con i funghi? Con i funghi, un po' di olio di oliva, burro, così. Mi piace il farmigiano. E pure lo stesso aglio e olio, normale. Proprio tradizionale. È benissimo. Prova in Venezia, dobbiamo andare io e te. Sì, insieme. Portiamo il tuo bambino. Oh, sì, quello che ci piace molto in Italia. Se sta a fare più grande lui? Sì, quasi, come si dice, 15 kg. 30 punti. 30 punti. Ah, veramente, è pesante. 15 kg. È preciso. È molto alto e gioca al calcio fra poco. Sì, gioca al calcio già fra poco. Sono serioso. C'è un programma qui vicino al centro di città. Fanno insegnare il calcio per quelli bambini a 18 mesi. Allora, tu quando vai in Venezia, che vuoi vedere? Beh, vedere... Niente, vuoi mangiare. Solo mangiare? Solo mangiare, parlare la lingua italiana. Solo così. Mangiare là sarebbe buono. Vabbè. Va bene. Grazie. Grazie per tutto. Era un bravissimo giornato con Antonio Lombardi. Sì. Se tu hai delle domande, extore at usa.com. Sono il dottor Antonio Lombardi. Buona giornata. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Grazie.